Quest'oggi per voi una miss esclusiva per correre questa mezza maratona, come mai? L'idea è di Lorenzo, bisogna correre di classe. Sì, perché abbiamo scoperto che le cose importanti non sono cose. Le cose importanti della vita non sono le cose. Ecco, avete avuto difficoltà a correre così? No, parecchio. Se fosse stato il sole ci saremmo squagliati. Però va notato, avete vinto facile perché... Ahia, ci andava una scarpina coordinata. Ma era per spezzare l'abbiglianistico. E comunque se guardi, era coordinata con il canale, il bello, il rovero. Un'altra nostra filosofia. E la cosa importante della vita è capire quali sono le cose importanti della vita.